Ciao a tutti e amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Night of the Dead Come al solito mi sono a Morrugio, che come al solito non è da solo perché c'è il super mega esperto di questo gioco Che è... Braistar Esatto, Braistar Allora Braistar sta... sta mettendo... ecco qua, ha appena messo questa che è una trappola per conigli Allora nel mentre vi ricordo di supportare questa serie con un bel mi piace, un commento e una condivisione Di iscrivervi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram Tutti i link in descrizione compresa la playlist di questa fantastica serie Amici mi raccomando se volete farla andare avanti supportatela con un bel like Braistar scusami, dobbiamo andare in esplorazione adesso, assolutissimamente Un orso, un orso E scappa qua in base, dobbiamo andare in esplorazione Però volevo fare una cassa panca, una cassa panca La cassa Aiuto Eh, lascialo lì Eh, no, adesso, adesso, visto che facevi il pendolo Fai il giochetto del pendolo Vai, fai il giochetto del pendolo Eh, usa le frecce Ma sei bagato? Dove, mi sa di sì No, non è bagato, vai che sta facendo finta Va a vedere se riesco a recuperare Vai, vai Braistar, vieni qua a spararle, così mentre le spari le recuperi Vieni lì, vai lì, tanto non ti prende Vai, vai, vai più avanti, così le pu... Sta arrivando anche uno zombie, stai attento Tanto io faccio una bella cassa che è questa Ma io ho finito le frecce, amo Eh, hai finito le frecce E recuperale dall'orso Prendile dall'orso Dall'orso, prendile Ok, questa è sostanzialmente la nostra cassa dove posso depositare le cose Si è sbagato, si è sbagato Non sapevo io Buttiamo giù un po' di roba, svuotiamoci un po' l'invertale Io, diamo anche il carburante Fungo bianco, carburante Poi bisognerà sistemare tutte le ce, è tutto Braistar qua c'è da fare un lavoro mica male Vedete che possiamo anche armare il personaggio comunque Possiamo fare una serie di cose E in più qua, ecco qua Sono a livello 4, possiamo aumentare i punti Braistar mi raccomando, aumentati i punti Ad esempio io mi aumento Meno danni subiti in rigenerazione e resistenza Questo Poi ho altri punti disponibili In vitalità E in forza Vai Senti, io faccio un attimo delle ricerche Vai, fai delle ricerche, le faccio anch'io Apro lo zaino io Che è? Cosa vuol dire apri lo zaino? Cos'hai ricercato te? Allora, prova a controllare se ti sei sbloccato Facchino novizio, facchino novizio è sbloccato? Sì Tu lo vedi sbloccato? Facchino novizio adesso è più lungo l'inventario Bravo Perché ognuno deve farlo Ah, lo devi fare anche tu? Eh sì, per forza Qua ognuno è individuale Sì, sì Ah, peccato Ci sblocca sta cosa qua Le sblocco Che ci possono servire dopo E poi sblocchiamo questo Danno dell'armi a distanza più due Non male Però non ho abbastanza dati di ricerca Braistar, sei pronto? Posso andare in esplorazione? Aspetta un attimo Dai Braistar Che non ti possiamo aspettare Forza No, dai Andiamo, andiamo, andiamo Qui c'è anche uno zombie C'è uno zombie Occhio, davanti a te c'è uno zombie Sì, l'ho visto Facciamolo fuori Senza farci male No, ma sul fianco non mi faccio male Vai, recupero io qua Tanto sono dati di ricerca Oh, qua Prendi sto coso qua Che te vuole il ferro Qua Qua, qua Il coso qua rotto Non il coso qua rotto Sì, lasciamolo a me Che così dopo mi faccio la lancia Oh, qua in casa c'è lo zombie Eh, ci sono due zombie Uno Uno c'è anche il robo Si chiama Robo da Che cavolo si chiama Quel robo lì da Vabbè, adesso lo vedi Quella robo attorno al collo Quello da prigioniero Non mi veniva il termine Col coltello T'ammazzo Maledetto Guarda qua Leve l'appo pure Ti sono diventato più forte Ammazza, Braystar Ma perché vengono da me? Aia, ma hai preso me, Braystar Maledetto Maledetto Braystar Ma hai preso me E ti frego tutti i dati della ricerca Così impari Vado a usare il coltello Dai, magari No, ma perché è lenta la Quella roba lì, eh Veramente lenta Oh, là Vediamo qua Ah, ecco, vedi? Guarda qua Questo qua, secondo me Non ci può far danni Ma sta qua non è Oh Braystar Ho trovato l'MR16 Vai, vai Prendi, prendi Eh sì, ma senza armi però Poi c'è un qualcos'altro qua Una radiolina Ma non me la fa prendere C'è un altro zombie C'è uno zombie C'è uno zombie Lasciamola a me Lasciamola Aia Maledetto Mi sto ammazzando Maledetto Qua sotto c'è qualcosa No Allora, le scatole Le rompiamo Allora, le scatole Le rompiamo Chiodo e assedilegno L'ingotto di ferro Più due Nelle scatole Braystar Vai di scatole Guarda qua, pieno di tutto Anche qua, gli armadietti Oh, Braystar Pieno di roba Sì, sì Tranquillo L'ho trovato anch'io Uno l'ho trovato anch'io C'è un piano sopra Un bel zombino Sì Con tre zombie Quattro zombie Braystar esci Esci Braystar Braystar esci Vieni fuori Braystar Vieni fuori Che ci sono quattro zombie Pottuti Cani Occhio Aiuto Il vomitino C'è anche qua il vomitino Vomitino maledetto Mori Oh Vai, raccogli le cose Dove vuole sto qua Oh, c'è quello che striscia Guardalo che bello Guarda che bello quello che striscia Accovacciati Morto Vai, muori Muori e muori Ok, vai Andiamo al piano sopra Va, Braystar Se riusciamo Non è male andare al piano sopra Settoro muore E anch'io C'è qualcuno Eh, c'è un altro C'è un altro vomitino E un altro Una testa Braystar Una testa Vai, forza Una testa Vai, Braystar Mena, mena Ho trovato la balestra Anche Non ci dividiamo le cose Braystar Oh, sono due Oh, sono due Scusa Perché ne ho due addosso Ma era uno era Aspetta, arrivo Braystar Hai capito Ho detto Lasciare una testa Eh, erano una testa Tanto le ho uccisi Comunque Dai, fatti Sta cesta qua Tutto Dai Attimo Ho trovato il flusso del tempo C'è di tutto Braystar C'è anche Un pesticida naturale C'è l'ingranaggio Proiettili di fucile C'è un fottio di roba Braystar C'è veramente un fottio di Roba C'è roba da mangiare Braystar Dopo ci dividiamo le cose Perché qua bisogna dividercele Potenzio un attimo Sì, sì Aspetta che mi potenzio un attimo qua Ah, cos'è che alzi? E io alzo Forza No, persistenza adesso Che Diminuisce i danni subiti Aumenta la resistenza E poi aumento anche l'attenzione Visto che ho due punti Che fai meno casino E sei più veloce nel movimento Tu cos'hai? L'M L'M16 Sì, però è meglio non usarli Perché poi ci sono No, no, ma infatti io uso Il coltello Finché sono così Il coltello Poi ci sono quelli grossi grossi Che devi usare per forza fucile Allora, questo è chiuso Non si può entrare Sto caravere No, qua, qua Questa casa qui Calmo Braystar Che c'è uno zombie lì fuori Ce ne sono due C'è pieno di danno Uh, ce ne sono tre Maledetto che mi fai male Muori, muori male Muori male Muori male Muori male Lascia stare Braystar Muori male Guardalo qua Vai Muori male Ok, vai Braystar Zaini Li zaini Braystar Tutto Tiriamo su qua Gli zaini Ah, eccolo qua Prendi lo zaino Ci penso io a lui Prendi lo zaino Maledetto Vicino all'albero lì Che non riuscì Dietro, dietro Dietro Via, via, via Cavolo Ma quanti ce ne sono Un frottio in sto gioco Eh sì Sono tanti Maledetti Fatemi mangiare una barretta Almeno Ne sta arrivando un altro Dov'è la barretta? Non trovo più la barretta Ah, l'insegnante d'inglese L'insegnante d'inglese Vai Perché l'inglese? Che schiaffi Boh, non lo so Però è un insegnante d'inglese Aspetta che anch'io Devo mangiare una barretta Mangia barretta C'ho le barrette Mangia le barrette Scusi, chi è? Prego Prego, prego E va da te Due come Cioè Una volta che li picchio Vanno da te dopo Eh, guarda Chi è? L'insegnante d'inglese ancora Aspetta che escono Vai L'insegnante d'inglese Eh sì Perché dentro c'è Questo non è quello grosso Che fa sto casino Brista Sì, di solito sì Dai, metto il mitra io Fallo uscire Eh, non so se è quello grosso Io qua vedo Ah, io ho un po' di gente Aspetta, aspetta, aspetta No, no, no Non usalo No, neanche quello Quello lì è scarso Quello lì scappa Sì, sembra forte Ma è scarso in realtà Quello lì Lì scappa, bestia Quello lì è Lo zombie Sadomaso Sì, lascialo andare Ah, questo qua è Ah, questo qua forse Quello un po' forte Non è proprio il più forte Ma uno un po' forte Braystar, occhio Che ce l'hai lì L'uomo col saldatore Il saldatore man Occhio Braystar Che ti sta arrivando Dietro quell'altro Maledettissimo Non riesco a prenderlo Io c'ho anche le molotov Comunque Erano da usare prima Eh, non mi sono ricordato Devo fare Le galline Ci sono le galline Braystar Sì, c'è di tutto Cosa sono quei funghi Luminosi Qua c'è un letto Non c'è niente Lì è già preso Poi dobbiamo Nelle macchine Serve la benzina Sì, sì, sì Ce l'ho già L'ho già messa via Andiamo qua davanti Ah, lì c'è la scala Cos'è sto casino Braystar Ma mi sa che è giù da basso Intanto io Qua Tiro su Cos'è sto casino È una roba grossa Braystar No, è quello lì Lo vedi sotto lì Chi è? Lo vedi lì? Sotto Eh, lo vedi? Ma io non lo vedo Come no? Sotto qua E non lo vedo Non vedo niente Ce ne sono due Che stanno spaccando Eh, io non li vedo Pensa che non li vedo Pensa un po' Eh, non scendere Lascia stare Andiamoci da via Intanto non c'è niente Penso qua Qua c'è un edificio Attaccato, eh Magari qua c'è qualcosa A parte uno zombie Level up, vai Eh, cadono dal soffitto anche Occhio Braystar Aia Maledetto Occhio Braystar Così ci facciamo male Non riesco a prenderlo Picchialo, picchialo Spanna, spanna i colpis Eh, ma hai ammazzato a me Braystar Ma dai Braystar Ma ha ammazzato Braystar Affa mia Aspetta che arrivo Braystar Per fortuna Sì, perché tanto la roba Non posso prenderla Vedete che Ci segna Dov'è la roba Sapevo che morivo Ma, 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 ma ha ucciso Braystar Ma ha ucciso Eccomi Braystar Son tornato Riprendiamo le cose Così dovrebbe rimetterci tutto Esattamente Nell'ordine che avevamo Adesso se Braystar Non mi ammazza Anzi, non lo aiuto più Se non mi arriva qua lo zombie Non lo ammazzo Bravo Perché se no Guarda che sta arrivando Guarda È scappato E sta arrivando da te Mentre faccio le cose Ma, 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 ma Ammazzalo Braystar Ma perché non lo ammazzi Ma, ma Adesso moriamo ancora Non mi scappa Non li ammazza Braystar È lì che Non lo so Cosa gli stai ridendo Un lecca lecca Ma ammazza lì Ah, ma non devo fare La lancia Eh, la lancia Lancia la lancia Lancia la lancia Braystar E questo è finto Questo Penso che sia finto È così Occhio che ce n'è lì uno grosso Non l'ho visto Però, va bene Questo edificio qua Si può entrare No Però qua ci sono Casse E Prendiamo il ferro Qua c'è ferro Casse Tutto Qua è roba Potenziamenti a go go Sono, eh Bisogna scaveggiare Bisogna scaveggiare Tanti in questo gioco Esplorazione Costruzione E scaveggio Il più possibile Bisogna continuare A scaveggiare Poi arrivano gli zombie Occhio Braystar Mi conviene andare Un attimo via da qua Mi sa che In base al casino Questi qua sentono Aspetta che faccio Una livellata Un po' in forza Lo metto adesso Memoria a cosa serve Danni inflitti Agli alberi Massi minerali E danni agli zombie Vai E poi un altro In questo qua In persistenza Un po' di Un po' di livelli Ce li facciamo Ah sì sì Perché qua Altrimenti sono cavoli amari Oh Qua c'è la città C'è la cittadina Più che città E' una cittadina Che anche qua Ovviamente Va esplorata Per bene Guardate che bella cittadina Possiamo esplorare qualcosa Bresta Questa casetta qua Iniziamo Bisogna far fuori Quelli fuori Eh lo so Perché sennò Arrivano dentro Un botto solo Uso la molotov O faccio casino Io uso il vitro No aspetta aspetta Li attraggo un attimo Aspetta eh Aspetta aspetta Non sparagli Li attraggo io Vai vai Prova Eh prova Aspetta che non riesco A lanciarla Eccola Non gli hanno fatto niente Fa schifo sta molotov No no beh Qualcosa gli fa Ok Mi ha dato il level up Quindi qualcosa L'hanno ucciso Ok Molto bene Eh però arrivano eh Arrivano Tira la testa Braistar eh Alla testa Braistar Un colpo Lì quasi Lì fu fuori Questo è forte Buona buona Questo invece L'ammazzo col coltello Muori Muori Quelli sono belli forti Però eh Eh sì E non sono quelli Più forti Invece non sono altri Molto più forti Direi Sca Vediamo la macchina qua E l'edificio che c'è qua La casetta qua La villetta qua Facciamo Sì Lasciale aperte le porte Mi raccomando Sì Così sappiamo Che le abbiamo fatte Assolutissimamente sì Mannaggia te Sputacchio Ma guarda te Occhio che c'è lo sputacchio Occhio Esploso Eh meno male Sputacchio esplosivo Occhio che ce n'è un altro qua Ce ne sono altri Eh no Mi sei incastrato Ah 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 Mi che cavolo Mi sei incastrato nella porta Ma che è Che è qua Vieni vieni Mi sei Mi si era incastrato nella porta Maledetto Fermo Qua ci moriamo Lasci Lasciamolo me Lasciamolo me Ma non riesco ad azzeccare il punto Per ucciderlo Occhio che ne arriva un altro Sì ma tanto è quello lì Quello sfigato Sì lascio andare Ma lascio andare Ma sai cos'è Eh sì ma io credo che Quello lì attiri altri zombie Mi sa eh Eh non lo so Bisogna anche Arrivano 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 E fa cadere le cose Pesta pesta Ahia Maledetto Ti stavo ammazzando Muori Occhio 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 Che cavolo Ma me lo manda da me Braistar Ma ti ritrovo te Braistar Ma lo sai che quando E picchialo Ma che sta arrivando da te Perché stai sparando Braistar Tanto picchio questo qua Questo qua Il malato sessuale qua Noi malato sessuale Vieni qua Allora lo scappa anche in casa Il maledetto Vieni qua Vieni qua Adesso dove scappi Il maledetto Ti hai fatta Braistar Sì sì vai tranquillo Ok allora puoi entrare in casa Puoi entrare in casa No stai lì che ho trovato del ferro Voglio farlo un attimo Eh qua ecco ti arriva gli zombie Anche maledetti Oh Stai picconando qualcosa Il ferro Buona buona Piccona il ferro Intanto io recupero qua Vai vai Alla grande Stiamo andando avanti Alla grande Prendi tutto Un inventario pieno A bestia Però la realtà È che non ci basterà Perché al giorno Successivo Cioè Quando arriverà Altri zombie Ho trovato un piede di porco Intanto Quando arriveranno Altri zombie Sapete cosa succede? Che non è più Come la prima volta È molto peggio Io questi archi qua Li abbandono Così Perché Non per sfiducia 80.000 archi Totalmente inutili Si siamo andati Vediamo qua Non c'è niente E vediamo qua Non c'è niente E qua Non c'è niente E qua C'è Braystar fuori Allora amici Io direi che per questa puntata È tutto Andremo avanti da qua Nella prossima puntata Bisogna esplorare un po' la città Bisogna continuare ovviamente Assolutissimamente Le missioni E il tutorial Per la precisione Perché missioni Perché così possiamo Aumentare la nostra base Lo faremo nella prossima puntata Mi raccomando Supportate questa serie Con un bel mi piace Commenti e una condivisione Iscrivetevi al canale Se siete già iscritti E attivate la campanella Pagina Instagram Facebook Gruppo Telegram Tutti i link in descrizione Con questa fantastica serie Quindi Damo rugida Ci vediamo al prossimo Fottuto video Ciao a tutti Ciao Ciao